mamme papà e bambini ma beati a voi in quanto grazie all'agenzia azzurra spettacoli durante le festività della befana potremmo ascoltare la cartoon cover band zapping cartoon project prendete carta e penna e segnatevi queste date primo appuntamento martedì 5 gennaio cavate tirreni paese in provincia di salerno piazza lentini inizio concerto ore 19 hai scritto vero secondo appuntamento mercoledì 6 gennaio sessa arunca un paese in provincia di caserta piazza 20 settembre inizio concerto ore 19 in queste due date i zeppi in cartoon project la cartoon cover band campana per eccellenza delizierà i nostri raffinati patiglioni auricolari con uno spettacolo per grandi e per piccini attraverso un viaggio emozionale tra le più belle sigle dei cartoon animati anni 70 80 e non solo in descrizione troverete tutti i link dove potrete acquisire tutte le informazioni per andare ad ascoltare i due formidabili concerti mamme papà e bambini adesso sapete cosa fare il 5 e 6 gennaio e mi raccomando che se manchi è peggio per te chiudo il video eh per ciò che aspetti iscriviti al canale e metti mi piace dai iscriviti metti mi piace iscriviti metti mi piace iscriviti metti mi piace iscriviti bravo grazie a tutti grazie a tutti